Sono più di mille gli evasori totali scoperti dalla Guardia di Finanza in un anno e mezzo. Sono stati scoperti appalti pubblici irregolari. Sequestrati alla Camorra, tornano in Olanda due capolavori di Van Gogh. L'operazione della Guardia di Finanza contro il riciclaggio internazionale di denaro. Oltre 10 tonnellate di hashish sono state sequestrate su una nave olandese. Abbandonano i mezzi e procedono a piedi. Sono gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, i primi ad arrivare. Grazie a tutti.